no e basta roba la volta però ero un permiso trovato che aspettavo a saperti se le aprìa una batteria maschi e ho ributtato all'altro di nuovo, batteria 2 a un certo punto lo devi andare piano No, non è vero? Guarda che non calo questo Arriba, arriva No, non è vero? Lo stesso è superi, non è solo la rotta brusse, cambrame Grazie a tutti.